Andrea Gianni arriva alla quinta vittoria per Milano consecutiva in questo giornale di ritorno oggi un po' più di fatica rispetto alle altre però alla fine era importante comunque vincere anche per come si era messa poi la partita no è stata una partita strana sicuramente come qualità poca qualità onestamente quindi abbiamo fatto tanti errori su situazioni semplici molto nervosi a un certo punto della partita e ripeto l'abbiamo portata a casa è stata una vittoria molto sofferta però anche qui quando si soffre quando non giochi bene quando non ti vengono le cose abbiamo chiuso noi all'ultimo punto questo abbiamo vinto il primo sette vantaggi quindi ripeto è stata una partita molto strana però bisogna saper giocare anche in queste situazioni quindi ripeto quando le condizioni non sono ottimali dove le cose non ti vengono per x motivi non perché non ti alleni no perché sei nervoso perché l'atmosfera che si crea l'importante è chiudere e l'abbiamo fatto un campo comunque difficile qui avevano perso punti squadre comunque come Modena come Trento che hanno stato portate al tie break si riparte proprio da quella voglia di mettere il pallone a terra una volta in più degli altri no adesso non guardiamo tanto cosa hanno fatto le altre squadre perché noi dobbiamo guardare sempre quello che facciamo noi abbiamo messo giù l'ultima palla è quello che è determinante nel nostro gioco nel nostro gioco puoi giocare male ma l'importante è mettere giù l'ultima chi vince va a casa felice e col sorriso chi perde spiega